Mercoledì 5 agosto ultimo appuntamento dedicato al festival della teologia ideato da Vito Rizzo che è qui con me per invitare ancora una volta tutti i cittadini di Agropoli ma non solo a far parte insomma di questa ultima serata dedicata appunto al festival incontri. Allora gli ospiti di questa serata Vito? Chiudiamo in bellezza devo dire che anche grazie a voi il festival sta toccando tante zone non solo della provincia di Salerno ma d'Italia perché poi le serate vediamo dai contatti che sono seguite da tantissime persone. Oggi dicevo concludiamo con la figura della donna nel rapporto con Gesù. Gesù è stato uno straordinario innovatore anche nei rapporti con le donne. Le donne sono delle figure centrali dei Vangeli e Don Emilio Salvatore un biblista docente presso la sezione San Luigi della Facoltà Teologica di Napoli ci parlerà proprio di questo rapporto. Poi sempre con Amedeo Giordano avremo il momento musicale ma poi concluderemo il festival con una tavola rotonda molto molto importante e qualificata perché grazie alla collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica di Napoli, la sezione San Luigi e in particolare con la specializzazione in teologia fondamentale avremo questa tavola rotonda sulla donna nel Mediterraneo. Quindi ci sarà Don Bruno Lancuba che è direttore dell'istituto di scienze religiose San Matteo di Salerno. Ci sarà per il suo indirizzo di saluto anche Angela Russo che è la presidente diocesana dell'azione cattolica. Avremo la professoressa Lina Morcos che ci porterà la testimonianza di una donna del Medio Oriente. Avremo l'assessore regionale Chiara Marciani assessore alle pari opportunità quindi quanto mai azzeccata anche la sua partecipazione trattandosi del festival delicato appunto alla figura della donna e poi concluderà questa tavola rotonda la coordinatrice della specializzazione in teologia fondamentale della sezione San Luigi di Napoli la professoressa Pina De Simone. Quindi un bel momento che noi riusciamo a presentare all'interno del festival è sembrato anche il modo più bello di concludere questa tre giorni con una riflessione che ci cala anche nella realtà dei nostri giorni sull'attualità e quindi ci fa anche comprendere come la teologia possa essere una chiave di lettura importante anche per comprendere e gestire i fenomeni di dialogo e di integrazione che vive la nostra società.